8 mesi dopo l'assedio siamo tornati a Malula e siamo venuti nel monastero di San Sergio. Qui, in quel periodo, durante l'assedio, c'erano i ribelli, i ribelli jihadisti. Qui non era possibile entrare. Oggi ci abbiamo messo piede per la prima volta e abbiamo trovato una distesa di macerie e rovine. La chiesa di San Sergio e Pappo è tra le chiese più antiche al mondo. Qua c'è l'antare più antico al mondo. Come tu veri stato distrutto e come tu noti la chiesa è talmente rovinata. Vogliono cancellare la nostra cultura, la nostra identità. Quella qui attorno è la chiesa di Santa Tecla. O meglio, quel che resta della chiesa di Santa Tecla dopo la cacciata delle milizie jihadiste che erano rimaste qui per molti mesi. Quelli alle mie spalle sono i miliziani cristiani che adesso sorvegliano i luoghi sacri e vigilano sulla città di Malula. Il mesebito è un'attare. Questo è quello che si trattano a l'arrivo e si trattano tutti i suoi. E vediamo il dommaro che si trattano a l'arrivo. Ho fatto una scuola, ma ora ho fatto una scuola che si trattano a nessuno. Si trattano alla ragazza di questa scuola. Il primo tema, quando si trattano alla scuola, che aveva un po' di solubare, non c'è una mazza di solubare. Dure cosa è? Dure il tante delicto, l'Ama! Mi chiedono perché non fanno scegliere gli esalti? E noi faremo scegliere gli esalti, gli esalti, gli esalti, le esalti, gli esalti e gli esalti. Grazie a tutti